Si sperava nel bel tempo e invece le previsioni meteo sono proseguite sulla falsariga del mese di marzo per il lungo ponte di Pasqua. Molti turisti però hanno deciso in questi ultimi giorni di non rinunciare a una breve vacanza per visitare le zone della provincia di Pesero Urbino che tanto hanno da offrire dal punto di vista culturale, paesaggistico e denogastronomico. Cecchini avete ricevuto prenotazioni per questo fine settimana, qual è la situazione? Allora è andata abbastanza bene, dal mercoledì e giovedì c'è stata un'esplosione di telefonate e prenotazioni in tutti gli alberghi perché fino a qualche giorno fa eravamo sul Chivalà, naturalmente siamo tutti legati al meteo. Avete richieste anche per i borghi dell'entroterra? Quello sta andando benissimo, abbiamo saputo anche a livello di ristorazione che hanno riempito quasi tutti i ristoranti perché i nostri prodotti d'eccellenza, come dico sempre, il tartufo tutto l'anno, l'olio di cartoceto, la casciotta d'urbino e il buon vino, le nostre cantine sono state presentate ultimamente al Vinitaly e veramente hanno avuto un ottimo successo. Che turisti hanno scelto la nostra destinazione? Allora posso dire subito, grazie al turismo sportivo abbiamo un bellissimo evento dalla Virtus proprio nel periodo pasquale che è veramente stata una cosa eccezionale. Però abbiamo trovato anche stranieri tedeschi e gli italiani ormai ne fanno da padrone perché puntano molto sulla città di Fano e da Fano si spostano nel nostro entroterra come Metaurbino, Mondavio, Pergola, il discorso che abbiamo sempre fatto, i beni d'arte ancora riescono a riempire le città. Vediamo Firenze, Napoli e Roma, stanno dicendo tutto esaurito.